Tre persone purtroppo decedute al Morelli, ospedale Covid-19. Il dato diffuso da SST Valtrino Alto Lario si riferisce alla giornata di ieri. I nuovi ricoveri sono 10, mentre 8 sono i pazienti dimessi. Dal 2 marzo hanno perso la vita 112 cittadini entrati in contatto con il coronavirus. Nello stesso periodo, 236 contagiati che grazie all'impegno di medici e infermieri del Morelli hanno superato la fase più critica e sono usciti dall'ospedale. Ieri sono stati effettuati 139 tamponi. Dai laboratori sono arrivati dati che aprono uno spiraglio, 49 i positivi, 75 i negativi. Altro aspetto importante è il ritorno alla normalità dopo aver ricevuto le cure ospedaliere. Per sostenere i pazienti per i quali sussistono difficoltà alla dimissione o che pur non avendo sintomi sono ancora positivi al coronavirus, a SST ha attivato un servizio per supportarli e seguirli fino alla ripresa completa, al ritorno alla vita di sempre. Un percorso, spiega l'azienda, che dura qualche settimana, poco più di due nella migliore delle ipotesi, segnato dalle telefonate quotidiane di due operatrici che si sincerano delle condizioni di salute e delle esigenze pratiche o mediche che li aiutano a risolvere eventuali problematiche legate all'approvvigionamento di genere alimentari e medicinali coinvolgendo la protezione civile e la Croce Rossa. L'ufficio di missioni protette opera sette giorni su sette. Ad oggi, precisa SST, sono una sessantina i pazienti inseriti nel programma, tra quelli dimessi dal Morelli a partire dal 30 marzo dopo aver superato la malattia nella forma più grave e quelli usciti dalle osservazioni brevi intensive degli ospedali di Sondrio, Sondrio e Chiavenna, risultati positivi al tampone ma con sintomi lievi. Tutte queste persone vengono poste in quarantena obbligatoria a casa, fino a quando non risulteranno negative a due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore dall'altro, almeno due settimane dopo le dimissioni.